Musica Come prima è partito ne ha saltati un paio Questa volta l'ha messa col joystick All'angolino con Radar Immobile Per subito in vantaggio All'angolino con Radar Immobile Qui va sul fondo Ora crossa dietro Mosconi Non la gira Arriva Kamath 5 a 0 Doppietta Per Isha Kamath Adesso davvero una passeggiata Per l'Inter Bravissimo All'angolino con Radar Immobile Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Palla in orizzontale regalata Kamath Che va a puntare Sboboda in area di rigore Kamath Cerca il sinistro Kamath Su La mette dentro Nonostante il tocco di Pessina Torna il gol Isha Kamath 1 a 0 Inter Un regalo di Nezirevic Ai suoi ex compagni L'albiino con Radar Immobile La sporty Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.